SIGEP 2020 ci troviamo allo stand della Ferrero e siamo in compagnia di Guido Pocobelli, il responsabile del trade marketing per l'autovum. Guido, benvenuto. Buonvenuti a voi al nostro stand, grazie per essere qui. Noi ci siamo fermati, abbiamo visto questo nutellone che occupa tutta la parete e la parte di ingresso dello stand e ci siamo chiesti cosa ci fa Nutella al SIGEP. Nutella al SIGEP è venuta a raccontare una nuova opportunità rivolta al mercato del gelato in Italia e soprattutto al punto vendita che fa gelateria artigianale, quindi parliamo di circa 10.000 punti vendita dove vogliamo iniziare a raccontare l'opportunità che un prodotto, una marca come Nutella può offrire a un gelataio con una nuova ricettazione ufficiale, quindi un nuovo modo di produrre il gelato alla Nutella riconosciuto e studiato dai laboratori Ferrero per ottimizzare naturalmente il gusto dei nostri consumatori che riesce ad aiutare i nostri clienti a sviluppare maggiore fatturato e maggiore profitto con una semplicissima lavorazione che consente di massimizzare i tempi, quindi lavorare più velocemente, semplicemente con una ricetta che prevede l'impiego di Nutella 3 kg, un litro e mezzo di acqua e mezzo litro di latte e in 10 minuti di mantecatura consente di offrire ai propri clienti il gelato alla Nutella come Ferrero vuole. Più semplice di così? È davvero semplice e inoltre offre un vantaggio in termini commerciali in quanto consente un risparmio medio del costo della produzione del gelato con ovviamente la possibilità invece di garantire grandi rotazioni grazie alla marca, al contributo della marca. Voi siete qui innanzitutto per mostrare il vero gusto del prodotto o meglio il gusto ufficiale della Nutella indipendentemente da quello che ormai quasi tutti i gelatai e i gelatieri vanno a proporre al pubblico fatto in autonomia. Sì, in effetti noi ci siamo resi conto che il gelato e il gusto alla Nutella è diffusissimo in Italia e c'era questa necessità anche di uniformare il livello di gusto e il tipo di consumo per i nostri clienti e quindi vogliamo raccontare e dare l'opportunità a tutti i gelatai d'Italia di avere la migliore ricettazione possibile e anche il supporto di marketing nel punto vendita in maniera da poter offrire un'esperienza di prodotto il migliore possibile. Qual è stata la risposta in questi cinque giorni del 41esimo Salone Internazionale del gelato e della pasticceria? Beh, la risposta è stata incredibile in quanto nonostante avessimo deciso solo all'ultimo minuto di partecipare a questa Kermess abbiamo avuto una folla allo stand incredibile, abbiamo servito oltre 5.000 assaggi di prodotto e consumato oltre 150 kg di Nutella al giorno e quindi direi una risposta fantastica. Infine Guido, per chiunque sia dall'altra parte stia guardando l'intervista e non ha avuto modo di passare presso il vostro stand o venire qui a Rimini al SIGEP, c'è un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile contattarvi per avere maggiori informazioni su questa ricetta? Semplicemente andare sul sito di Ferrero e contattare il customer service lasciando un indirizzo e richiedere di essere contattati. A noi piace costruire una relazione diretta con i nostri clienti per cui abbiamo una rete di agenti su tutto il territorio nazionale pronta, prontissima a rispondere a tutte le richieste che ci arriveranno. È arrivato il miglior momento dell'intervista, quella dell'assaggio? Eh sì, direi che a questo punto ci meritiamo di degustare il nostro gelato alla Nutella insieme e lasciare ai nostri clienti la possibilità di venire a trovarci allo stand oppure di andare noi da loro dopo. E allora Guido, grazie per il contributo, grazie per l'assaggio, facciamo un nut nut come si fa con i brindisi e buon lavoro. Buon gelato a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.